Il rischio zona gialla è sempre più concreto ed ora si potrebbe palesare pure in anticipo rispetto alle previsioni che parlavano delle prime settimane di dicembre. I due parametri chiave, spiega l'assessore regionale alla sanità Riccardo Riccardi, sono le intensive che debbono rimanere sotto le 17 persone ricoverate, al momento dato già superato a quota 19 e le aree mediche entro quota 192. Il dato odierno si attesta sulle 134 unità, 7 in più di ieri, dunque un margine ancora di 58 ricoveri al passaggio di fascia. Ovviamente però non si possono non pesare le conseguenze delle positività degli ultimi giorni e gli eventuali aggravamenti o guarigioni. Ieri nuovi casi erano 650, oggi sono 577 su oltre 20.000 tamponi con un tasso di positività che resta alto. Oggi si registrano anche quattro decessi, tre uomini, un 66enne di Cordenons, un 75enne di Mortegliano, un 76enne di Trieste e una donna di 83 anni di Trieste, tutti deceduti in ospedale. L'eventuale passaggio in zona gialla determinerebbe l'aggravio della mascherina anche all'aperto, ma se si pensa alle restrizioni fatte in ambito ospedaliero, a operazioni chirurgiche non urgenti e dei surgery, di fatto da un certo punto di vista il colore della nostra quotidianità è già cambiato. La regione guarda con apprensione anche ad eventi in cui si sarebbero verificati assembramenti, come il caso della festa di San Martino a Prosecco, località carsica nella quale al netto del tracciamento ci sarebbe già a monte dei festeggiamenti una quantità preoccupante di contagi. È evidente che situazioni come queste preoccupino, spiega Riccardi. Le soluzioni sono due, terza dose e rispetto delle regole. Grazie. Grazie.